Musica Ciao a tutti sul canale, bentornati in questo nuovo video, sono qui oggi per portarvi un video di cui sono veramente veramente fiera, sono veramente veramente felice di poter finalmente portare Sono stata ufficialmente sponsorizzata dalla Kentucky, per chi non la conoscesse è un'azienda veramente meravigliosa, ha dei prodotti che sono fenomenali Vi lascio qua il loro Instagram, in descrizione tutti i loro social e il loro sito web e ha veramente veramente delle cose eccezionali, sono troppo felice che abbiano deciso di sponsorizzarmi Io ho fatto questo primo ordine, loro mi hanno dato un budget e non l'ho speso tutto, ho aspettato per prendere altre cose che voglio prendere che vadano sicuramente bene anche al prossimo cavallo in modo da poterle tenere Quindi ad esempio il sottopancia aspetto a prenderlo, però intanto ho preso queste cose e vi giuro che sono stupende, sono troppo felice di averle preso Adesso vi faccio vedere quanto è grande il pacco e l'ha portato su mio fratello, perché io lo tipo, io non riesco a portare su questa cosa Cioè non so se vi rendete conto di quanto è enorme, vi giuro che è gigantesco e adesso è vuoto, quindi lo muovo quasi quasi con agilità Ma è gigante Adesso con calma vi faccio vedere tutte le cose che c'erano dentro ma volevo veramente tantissimo ringraziarli perché mi hanno dato veramente tante cose e sono veramente belle Quindi grazie davvero e possiamo cominciare con il video Allora la prima cosa che vi faccio vedere è questa giga coperta, cioè il sacchetto è enorme, la coperta pure Che loro chiamano stable rug appunto e qua poi nella foto vi metterò delle altre foto dei pezzi di video Che ha il pelo solamente qua in cima sul collo ed è tutta a bordo con gli agganci tutta la pancia Ed è davvero davvero bella e dentro non si vedrà mai è tutto in paellino, non lo so è stupenda E qua ci sono tutte le informazioni Adesso io non riesco a tirarvela fuori tutta perché però ve la faccio solo vedere così è veramente bordo stupenda, cioè adoro Ci sono i ganci in oro e sono veramente belli e volevo far vedere dentro se riesco Lo volevo far vedere dentro ad esempio qua che è tutto marroncino in paellino e vuoi stramorbido vi giuro Meravigliosa, veramente bella Vi lascerò adesso delle foto, ovviamente non riuscirò a mettere la sua domino perché è ancora pesante Adesso per un po' è ancora pesante Quindi vi metto su delle foto indossate ad altri cavalli ma è veramente veramente bella Adesso vi faccio vedere due cose insieme e vorrei dire che Sere se stai guardando questo video sarei molto fiera di me Perché Sere mi insulta sempre Perché io per il trasporto di domino uso delle fasce che sono da lavoro in pile e non sono da trasporto E quindi ho deciso di prendere le fasce e le sottofasce Vere, giuste, fighe e belle E quindi Sere sarei fiera di me E niente io ve ne tiro fuori una perché la voglio vedere anch'io E ho preso tutto nero perché sì, sono fissata Oh, con scritto Kentucky così e sono tutte con le... oh, che bello Finalmente delle fasce Oh, sono meravigliose, me lo sento già E sono appunto quattro per il trasporto E poi abbiamo appunto le sottofasce che sono, come sappiamo, da mettere sotto le fasce per il trasporto In mente di speciale E ve ne faccio vedere solo una Non ci riesco a farvela vedere Che è... cioè è un letto praticamente enorme Qua c'è il logo della Kentucky Ed è tutta così super super bella E mi piace molto Sempre nera ovviamente E poi ultime cose che sono sempre due cose Sono queste meravigliose stinchiere e queste paranocche Adesso ve le apro e ve le faccio vedere No raga, non potete capire, sono stupende Sono veramente, veramente belle Sono fatte così E sono veramente meravigliose, vi giuro Mi piacciono un sacco No vabbè, cioè ve lo vedete domino con queste Cioè, adoro Veramente con scritto Kentucky ovunque Sono veramente belle Mi piacciono un sacco E vi faccio vedere anche quelle dietro Che ho preso nella forma normale Non quelle a conchiglia Perché non voglio fare del male al mio cavallo Io comunque mi attengo a quelle normalissime Che tra l'altro loro chiamano tipo Per l'addestramento dei puledri Comunque sono quelle super normali così E sono belle E sono bellissime, mi piacciono un sacco Si lo so, sono vestita diversa Sono tutta diversa Ma sto registrando questo pezzo di video Un po' di giorni dopo la prima parte Ma mi è arrivata una parte di pacco Che loro si erano dimenticate di mandarmi E alla fine hanno deciso di mandarmi subito Invece che aspettare Ed è Questi gioiellini Cioè Sono le stinchiere uguali a quelle che vi ho fatto vedere prima Che tra l'altro Il video l'ho registrato un po' di giorni fa E ho già fatto una gara E ci ho già messo le stinchiere E sono meravigliose Sono davvero fantastiche E questi qui sono uguali ma col pelo Adesso ve le faccio vedere No raga, non potete capire No raga Oh mio Dio Sono uguali, eh Proprio con la chiusura uguale Tutte le caratteristiche uguali ma Oh mio Dio Non le avevo mai avute col pelo Quanto sono carine Sono bellissime Vi giuro, mi piacciono un sacco Nere, ovviamente Tutto nero Giusto E basta, niente Sono uguali Però le ho prese col pelo Le userò queste in gara E le altre adesso comincio ad usarle in casa Visto che mi sono arrivati queste E adoro Cioè sono meravigliose Sono davvero belle Faccio vedere anche l'altra Che è uguale E tra l'altro anche il pacchetto È super 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 carino E basta Volevo solamente Finire di registrare questo Dalla prossima gara Vedrete Domino con questi Ah, sono troppo felice E basta Vi lascio a tutto il resto di video che ho fatto E ultima cosa che io non ho ordinato Ma sono stati troppo gentili a mandarmi È il cappellino della Kentucky E già qua ha scritto Kentucky Ed è veramente Cioè Prima di tutto è Bordeaux E il colore preferito mio è Il Bordeaux E vi giuro non glielo neanche chiesto E boh è troppo carino Mi è grande Guarda caso Però è troppo carino Vi giuro Mi piace un sacco E niente Per questo unboxing Meraviglioso È tutto Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così lasciate un piacione Su Fatemi sapere Giù nei commenti Se conoscevate la Kentucky Se avete qualcosa di loro Se avete qualcosa Cos'è Perché sono molto 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 curiosa Ricordatevi di iscrivervi al mio canale Se non l'avete ancora fatto E di attivare la campanella Per non perdere i prossimi video E noi ci vediamo al prossimo Ciao Ciao